Una malvasia puntinata fatta sull'appia antica, con un territorio di grandissima mineralità, freschezza e profumo. Qui c'è proprio la salivazione ai lati della lingua. Vi faccio bere una bomba, bottiglia numerata. Ciao, questa piave missi, vi faccio un po' di Roma. Andiamo al tasting. Signora Roberta, andiamo, una ragazzaccia? Sì, è una ragazzaccia, si sa. Ah, ciao, ciao, ciao. Top, ci siamo? Vai. Grazie caro. Via, un'andata, una ciao. Olle. Numerata.